Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi siamo qua in bici come potete vedere dal casco e intuire dalla bicicletta Siamo qua a Mello, stiamo salendo appunto per la strada principale Oggi vi porto su uno dei più semplici sentieri che c'è qua in bassa valle Si sparte appena sopra Mello, dopo vi faccio vedere Perché da secoli che non vanno in bicicletta, saranno passati ormai due mesi E nulla dai, adesso mi sbrigo ad andare su anche perché la Sofì sta per finire il lavoro e devo andare a prenderlo Ci vediamo in cima Allora ragazzi abbiamo messo uno che ho visto su strada che lo saluto e penso che mi conosca Se ancora non mi conoscete e non siete iscritti al mio canale basta iscrivervi qua sotto sul mio logo e iscriviti Dai che si cresce, si è ormai a 650 iscritti, tantissimi E nulla, comunque adesso il sentiero si prende lì, siamo a Civo, presuppongo Di solito mi sbaglio il Cino con Civo ma qua siamo a Civo, quello della chiesa Da lì è giù il sentiero che arriva da Roncaglia E noi prendiamo questo qua, l'ho detto Il sentiero facile da non sottovalutare ma facile Ricordatevi sempre il casco e le protezioni che fanno sempre comodo E nulla quindi mandate le ciance giù in difesa Mettetevi comodi, tanto non è chissà quale sentire Bene ragazzi dovremmo partire Vediamo tutto, ma non che si ricorda come si fa E via Vediamo 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 Grazie a tutti stiamo sempre attenti ai pedoni che ho visto che vacanza potrebbero esserci un po' di foliage ecco infatti occhio salve ecco come potete vedere un uccellino nulla di così troppo difficile tutto su su strada pazzo c'è la ruota posteriore che non tiene l'ho ronetto in tutti i miei video ma non mi decido ancora di cambiarla qua pulito a nuovo pazzo poi di qua un po' di un po' di e poi vi beccate in mezzo com'è giusto che sia i pedoni salve salve adesso qua se non ricordo male è dentro qua sinistra qui alla chiesa sinistra destra stop poi giù a fuoco sempre però tenendo i freni le mani sui freni e' nulla e' nulla distrutto quindi si torna qua e ragazzi se non ricordo male questo sentiero si chiama sentiero del sole comunque voi che sapete più di me scrivetemelo qua sotto nei commenti intanto lasciamo bruciare il tutto e' nulla da me dal mio canyon e dalla costiera di c'è che è tutto noi ci vediamo in un prossimo video sempre qua sul canale vi ricordo di iscrivervi come sempre no ma doi l'elicottero e niente ciao ragazzi e grazie per aver visto il video fino a qua un saluto ciao ciao